E' morto l'autista del furgone coinvolto nell'incidente accaduto poco dopo le ore 12 di oggi nel tratto autostradale della A4 tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto al chilometro 430 in direzione Trieste. Si tratta di Mauro Tognolo, 61 anni, originario di Arsiero in provincia di Vicenza ma residente a Romance di Sonzo in provincia di Gorizia, impegnato come autista proprio per una ditta agricola del paese dell'Isontino. Secondo una prima ricostruzione, per causa in corso di accertamento il veicolo ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva e che trasportava bancari, illeso l'autista del camion unudinese. Al momento del violento scontro tra i due mezzi non c'erano rallentamenti o core sul posto, la polizia stradale per i rilievi, assieme al personale del 118, i vigili del fuoco, i tecnici di autovie venete in mezzi di soccorso meccanico. I pompieri arrivati da Sandonà e Motta di Livenza hanno estratto il conducente del furgone e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche il medico del SUEM che ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato, l'autostrada chiusa, le operazioni sono terminate dopo circa due ore. Dalle 14 è stato riaperto, il tratto interessato, il personale di Autovie Venete ha provveduto a liberare la carreggiata. È stato quindi riaperto anche lo svincolo in ingresso a Sandonà perché era diretto a Trieste. Nel corso del pomeriggio i rallentamenti e le corde si sono via via smaltiti. Si tratta della sedicesima vittima dall'inizio dell'anno lungo il tratto Veneto-Friulano della 4 che attende ancora di conoscere con certezza quanto tempo ci vorrà per completare la zona ad imbuto rimasta ancora senza terza corsia.